No! Hai si sub-Zero accanto a te! Non ci credo! Hai si sub-Zero! Ciao ragazzi! Da quanto tempo mi conviene? Oh, come state? Io bene, te... All'old! Sei fidanzato? No, non... Con me, con me, io sarei la ragazza sua. Io ce ne ho due. No, io ce ne ho due. Ti sei lasciato con Martina? No, dai... No. Bianchino! Ma tu copi Grimbaud, dimmi la verità. No. Che fa entrare tanta gente. Vorresti essere lui? Questa è scomoda, eh. Eh, mica hai fatto solo te le domande scomode qua. ZB Jackson è molto, però tu no. È più forte da te, hai capito? Cioè, tu... Ripetilo, scusa? ZB Jackson è più forte da te, hai capito? No, 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 non ha capito. No, no, non c'è, non c'è. Non ho capito, porca puttana! Non ho capito! Oh, compensi con le donne, Roscio. Per capello. Asia, Camilla, sono un ragazzo affascinante? Parecchio. Beh, se no non stava con te, no? Sì, però lascia ce n'è qualcuna. Cioè, lei, Samantha... Poi... L'ex mia guardava sempre le storie due... I tiktok io li dicavo perché stavi sempre... Cioè... Finite? Trisom? Una, te ne chiedo. Ma ci sta, ci sta. Per favore, Camilla. Se ti prendo... Cosa? Non vuoi far là sopra? Stai tranquillo, va bene? Ok. Camilla... No, sei già innamorata, Camilla! Però ci stanno cose che non... Cioè, lunedì stavo a Milano, eh. Eh, che cazzo vuoi? Cioè... Sì. Vengo a casa tua, mi ospiti? Mmm... Sì, ci sta, spacco, sì. Eh, Camilla, ma se...